Chapter 4 Lesson 9 Il conducente deve usare in possesso della patente della categoria C o CE e della carta di qualificazione del conducente per la guida di veicoli gari di massa gencavasan superiore ZO 3.5. Iluddambiente del corretto è di stabilità della categoria C e delle studenti di tutte le strane di scuole della cartola e delle qualificazioni del conducente per la basicità della luscita del corretto è di calciato. Per la guida di autobus addiviti al servizio occasionale e noleggio con il conducente è necessaria la patente di categoria D e la carta di qualificazione del conducente per la guida di autobus. Per la guida di autobus addiviti al servizio occasionale che utilizzare la guida di autobus. È necessaria la patente di categoria D e la carta di qualificazione del conducente per la guida di autobus addiviti al servizio regolare e servizio pubblico in linea. È necessaria la patente di categoria D e la carta di qualificazione del conducente per la guida. Per la guida di autobus addiviti al servizio regolare che utilizzano per la guida di autobus e servizio pubblico in linea. È necessaria la patente di categoria D e la carta di qualificazione del conducente per la guida di autobus. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata dal ufficio motorizzazione civile. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata dal ufficio motorizzazione civile. La carta di qualificazione del conducente non è richiesta per la guida di veicoli che affettano trasporto merci a uso proprio qualora il conducente non sia stato assunto. La carta di autobus addiviti al servizio pubblico in linea. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata dal ufficio motorizzazione di autobus. La carta di autobus è rilasciata dal ufficio motorizzare del che quando c'è c'è una volta straccata su sede è ho un stricc un strano che è un strano che il banzo che il banzo il banzo che gli si possono quali come attraverso il nostro corso per il nostro corso la carta di qualificazione del conducente è la lasciata dalla camera di commercio la carta di qualificazione del conducente è la camera di commercio il conducente è sentato dal possesso della carta di qualificazione del conducente di quantificazione del potente è la carta di qualificazione del conducente è la per la guida di autoveicolo adibiti per servizio regolare e servizio pubblico di linea è necessaria la patente di categoria D e il certificato di abilitazione professionale di tipo KBA per la guida di autoveicolo adibiti per servizio regolare e servizio pubblico di linea è necessario, la patente di categoria D e il certificato di abilitazione professionale di tipo KBA che è il certificato che abbiamo professionale di abilitazione professionale di tipo KBA che è il tipo KBA, non che il bambino di tipo KBA la carter di qualificazione del condo chianti non è rica questa per la guida di autoveicolo adibiti per servizio di regolare la carter di qualificazione del condo chianti che è il tipo KBA, non è rica questa, non è rica questa, non è rica questa la carter di qualificazione del condo che è il tipo KBA, non è rica questa, non è rica questa, non è rica questa, per la guida. 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 inizia. per la guida. 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 per guida. grazie grazie